Sono pieno di peli di gatto e questo è dovuto al fatto che quando torno a casa dall'ufficio mi metto sul divano e la mia amicia vuole venire in braccio e quindi sono coperto di peli di gatto. Lo so, è una cosa indecorosa eppure è in questo stato che mi presento al vostro cospetto. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Sono qui oggi a farvi un video spot, un po' di fretta come spesso accade, tant'è che non ho nemmeno avuto il tempo di cambiarmi, infatti sono coperto di peli di gatto ma mi piace così perché mi piacciono tanto le coccole sul divano. Sono qui per parlarvi di intelligenza artificiale e generazione di immagini legata all'intelligenza artificiale. In particolare vi faccio questo video oggi perché c'è una notizia che mi è appena arrivata che mi ha molto colpito, ovvero ve la voglio leggere. E vado con la traduzione simultanea, con effetto immediato GetImages non accetterà più immagini inviate che siano state generate tramite generatori di immagini governati dall'intelligenza artificiale. Questo fondamentalmente che cosa significa? Facciamo un riassuntone per chi non avesse seguito bene. Innanzitutto vi ricordo che ho pubblicato di recente alcuni video riguardo alla fotografia di stock e di microstock. Riassumendo brevissimamente, si tratta semplicemente di un metodo moderno ma neanche troppo perché esiste ormai da 20 anni per monetizzare la nostra fotografia. È un metodo garantito per monetizzare la nostra fotografia, nel senso che non è un social dove se abbiamo 100 milioni di follower forse la piattaforma ci dà degli spicci. Si tratta di piattaforme dove noi mettiamo in vendita le nostre immagini e degli utenti in giro per il mondo le comprano per gli scopi più disparati. Se io ho fatto delle fotografie della mia città potranno venire acquistate da un giornale locale o cose del genere. Quindi è una piattaforma dove è garantito che qualcuno ci comprerà qualcosa, posto ovviamente che le nostre immagini siano buone perché se ci fotografiamo gli alluci e basta è un po' poco come offerta. Quindi ci sono queste piattaforme su cui noi possiamo mettere in vendita i nostri contenuti. Se vi interessa la cosa andatevi a vedere i video che vi linko in card. Ecco appunto uno di questi big player è proprio GetImages che è una delle più grosse agenzie di stock. Quindi è una delle più grosse piattaforme dove noi possiamo andare e comprare dei contenuti video, audio, immagini, illustrazioni, disegni, qualsiasi cosa ci venga in mente. Se abbiamo un progetto ma ci mancano le risorse per realizzarlo possiamo navigare su una di queste piattaforme e dietro l'auta ricompensa ovviamente perché nessuno regala niente ci verranno dati dei file con cui possiamo portare avanti i nostri progetti. Quindi a me serve che ne so una foto di una ragazza che guarda una città futurista al tramonto con un cielo di fuoco. Vado su GetImages e vedo se ce l'hanno, se hanno l'immagine che fa al caso mio gliela compro e poi loro mi danno una licenza per cui posso farci quello che voglio. Ora nel 2022 inoltrato, parliamo anche di 2023 ma si comincia a parlarne prepotentemente già adesso, quindi nel 2022 inoltrato questo mercato in cui ho anch'io i miei interessi, perché comunque io vendendo immagini ho anch'io i miei interessi vendendo immagini video e audio, diciamo che è una cosa che mi tocca da vicino. Nel momento in cui queste intelligenze artificiali stanno ormai raggiungendo un grado di complessità che non esito a definire interessante, è evidente che ci si comincia a domandare ma queste intelligenze artificiali sono in grado di generare l'immagine perfetta per me? Perché se così fosse io potrei non aver più bisogno di andare su GetImages o piattaforme affini e dargli, scusate il termine un po' volgare, una pacconata di soldi per avere il mio file. Perché se io posso andare su Getty e spendere tot euro, tanti, perché su Getty non costa poco, se io posso andare su Getty e dargli un sacco di soldi per scaricare una singola immagine, è un conto. Finora è stato così, le migliori immagini del mondo sono su queste piattaforme, quindi se io volevo qualcosa del genere dovevo dare dei soldi a queste piattaforme. Ma cosa succede se adesso c'è un'app da smartphone che gratuitamente mi consente di generare un'immagine che potrebbe essere tarata esattamente sui miei bisogni? Ora io ho fatto i miei esperimenti, ho scaricato qualcuna di queste app, ho fatto le mie prove, il mio resoconto personale, fatemi sapere in un commento se vi interessa perché potrei fare un video dedicato visto che ci ho smanettato, ci ho smanettato per interesse personale. Se volete un'opinione approfondita ve la faccio in un video dedicato, ma fatemelo sapere perché se non interessa me lo evito anche perché è un argomento che si può esplorare, sì, no, ma non è essenziale, non è quello che mi preme approfondire. Quindi lo approfondisco solo se vi interessa. Diciamo che per quella che è la mia esperienza queste app generano delle immagini, queste immagini sono utilizzabili, sì, no, dipende dall'app, qualche app ti dà la licenza di fare qualsiasi cosa, qualche altra app ti dice sì, usa liberamente le immagini, però se le metti su una maglietta e poi vendi 100 milioni di copie della maglietta dobbiamo rinegoziare la licenza. A seconda dell'app ci sono delle condizioni diverse, quindi già solo per questo se avete un progetto serio potrebbe essere più serio appunto continuare a rivolgervi all'agenzia di microstock perché lì sapete che c'è un sistema tale per cui se avete un progetto in mente e volete realizzare un qualcosa e prendete un file da queste piattaforme, lì avete la garanzia di poterci fare quello che volete, l'avete pagato. Se io compro un berretto e lo pago 10 euro e poi mi faccio fare una fotografia e quella fotografia diventa virale e fa il giro del mondo, chi ha prodotto il berretto non può venirmi a dire non sapevo come avresti usato il mio berretto, voglio degli altri soldi, no? È la stessa cosa. Nel momento in cui noi compriamo una risorsa da un'agenzia di microstock l'abbiamo pagata, posto che poi ci sono le licenze speciali sopra certe tirature, però non stiamo parlando di milioni, stiamo parlando comunque di una licenza abbordabile. Una volta che io ho pagato quella licenza nessuno mi verrà a dire ah ma non avevo capito che la tua immagine avrebbe fatto il giro del mondo, allora adesso siccome hai fatto grandi cose vogliamo più soldi, questo non succederà. Invece con tutte queste app diciamo che c'è ancora un po' di incertezza perché qualcuna ti lascia piena libertà, qualcun'altra un po' di meno. Non vado neanche troppo ad approfondire perché dipende dalla singola app e ormai ce n'è abbastanza, stanno cominciando a diventare tante, quindi è inutile andare a prenderle caso per caso perché sono troppe, si rischia di fare notte. Anzi è già notte. Ma torniamo a bomba alla notizia del giorno, ovvero Getty Images non accetta più e ha annunciato anche che andrà a cancellare le immagini che sono state inviate per la vendita, che sono state generate tramite intelligenza artificiale. Questo che cosa significa? Tenete conto una cosa, io lavoro per Getty tramite iStock, quindi non direttamente su Getty ma comunque ho a che fare con questi signori da abbastanza tempo da sapere che sono molto seri in quello che fanno. Quindi nel momento in cui arriva questo comunicato io sono sicuro che non ritratteranno, non sono i tipi di persone, non è il tipo di struttura che manda un comunicato dicendo una cosa di questo tipo e poi ritratta. Non l'avrebbero mandato se pensavano di ritrattare, quindi io credo proprio che la loro decisione sia definitiva. Loro non accettano e non accetteranno mai più delle immagini generate da un'intelligenza artificiale. Nel caso specifico loro hanno preso secondo me questa decisione perché l'introduzione dell'intelligenza artificiale all'interno del loro circuito genera troppi dubbi. Se qualcuno capisce la citazione fatemelo sapere in un commento. Dubbi perché? Perché nel momento in cui io faccio una fotografia la legge italiana, ma in realtà le leggi un po' di tutto l'Occidente, non so in Corea e in Russia, ma in tutto l'Occidente, la legge stabilisce che se io premo l'otturatore la foto è mia. Poi se c'è un'altra persona nella foto lì va negoziato con la persona ritratta se io posso venderla oppure no, però il detentore dei diritti sono comunque io. Poi che io non abbia il permesso di usarla perché c'è ritratta una persona che non mi dà il permesso è un altro discorso, però i diritti sono miei. Questo semplicemente per dire che se io ho fatto la foto mia cognata non può venderla perché è mia, non è sua e quindi non può venderla. Ma che cosa succede nel momento in cui è un'intelligenza artificiale a creare un'immagine? Succede che abbiamo un problema perché io sto caricando un'immagine su una piattaforma di microstock come può essere Getty, come può essere Shutterstock, ma chi ha premuto il grilletto? Non io. E quindi io non sono in realtà detentore dei diritti di quell'immagine. Detentore dei diritti sarà a pari merito con me l'intelligenza artificiale perché io magari ho dato un input all'intelligenza artificiale, magari ho digitato ragazza in autunno con tramonto acceso, però poi è stata l'intelligenza artificiale a creare quell'immagine. E quindi di chi sono i diritti? E quindi in questo caso magari la piattaforma sta dando dei soldi a me, però se chi ha implementato quell'intelligenza artificiale si rende conto che un'immagine creata dalla sua intelligenza artificiale è stata venduta per una campagna importante magari che sta facendo un sacco di milioni in giro per il mondo, ecco che potrebbe esserci un conflitto perché questa piattaforma, questa app potrebbe farsi viva con il sito di microstock e dire guarda che quell'immagine non è di quel fotografo, è mia, è stata generata dal mio sistema. Questo genera un problema ovviamente che la piattaforma vuole evitare. Io vi faccio questo video non tanto per parlarvi di problemi legali, quanto per dirvi che secondo me questo è un segnale bello tutto sommato, non sono negativo nel fare questo video, ma anzi sono molto positivo perché il fatto che le agenzie di microstock rifiutino le immagini generate da intelligenza artificiale è un enorme regalo a chi crea dei contenuti veri, ecco, perché è fin troppo facile digitare ragazza al tramonto con cielo di fuoco, cioè quello lo sappiamo fare tutti, chiunque di noi sa digitare una frase all'interno di un'app scaricata sull'iPhone e poi stare pazientemente seduto ad aspettare che giri la pubblicità per scaricarsi l'immagine già pronta, siamo capaci tutti di fare questa cosa. Mentre io conosco poche persone che sono in grado di fare una bella foto di una cosa banale come una ragazza con un tramonto dietro, ne conosco veramente poche, si contano sulle dita di una mano. Quindi è molto facile generare delle immagini senza fare niente, lasciandolo fare al computer, è molto difficile realizzarle per davvero, c'è molta cura per il dettaglio, attenzione per i particolari dietro questo lavoro. Non tutti lo sanno fare, non tutti sanno impostare la scena, non tutti sanno posare, quindi anche la persona che posa in questo caso è importante, la scelta del luogo, la scelta dell'ora. Sono tutti fattori unici e irripetibili, l'intelligenza artificiale può generare milioni di quelle immagini tutte finte, che in realtà non hanno attinenza con la realtà. Quindi questo secondo me è un bel segnale, il fatto che questo tipo di immagini vengano escluse dalla piattaforma significa che non avremo un'invasione di fintoni, di replicanti, di robot, o di immagini finte caricate da utenti che non sono né fotografi né designer né niente, sono semplicemente persone che stanno a casa, immettono dati e caricano su, passatemi il termine, schifezze. Io sono molto contento di questa decisione di Ghetti, la approvo. Diciamo che questa decisione viene un po' a seguito anche di un'altra decisione che è stata presa, se non ricordo male, un annetto fa, un anno e mezzo fa, due anni fa, una roba del genere, non mi ricordo più. Con la cronologia io sono veramente pessimo, però c'è stata un'altra decisione presa in tempi non troppo lontani, che sostanzialmente bandiva il fotoritocco sulla fisicità delle persone ritratte. Questo perché comincia a farsi sentire la problematica del corpo, della percezione del corpo e di corpi troppo perfetti. Ora, su Instagram questa cosa non è ancora arrivata tanto bene, ci sono alcuni paesi magari dove si sta parlando di mettere un disclaimer obbligatorio per chi si ritocca palesemente, però non è ancora arrivata bene questa cosa, secondo me prima o poi arriva perché effettivamente proporre, soprattutto da parte di persone famose con tanto seguito, questa continua riproposizione di corpi perfetti in un mondo dove poi nessuno di noi è perfetto e nessuno, quasi nessuno di noi può permettersi di apparire perfetto. Lasciate perdere me, a me viene naturale, però sto pensando alla totalità del genere umano. Noi non siamo perfetti, non riusciamo a porci come creature perfette perché abbiamo un lavoro, abbiamo una vita, abbiamo delle cose a cui star dietro. Mentre una persona che dedica la sua vita a creare dei contenuti il cui unico obiettivo è apparire perfetta, gli viene facile, è l'unica cosa che sta facendo. E quindi per contrastare un po' questa tendenza di questi corpi scultori perfetti senza un'imperfezione, senza niente fuori posto, Getty ha preso questa cosa sul personale e ha bandito le immagini in cui viene ritoccata la fisicità. Quindi è vietato smagrire le modelle e i modelli, è vietato esaltare la muscolatura, quindi per esempio con fluidifica di Photoshop sapete che io potrei ingrossarmi, potrei farmi molto più muscoloso di quello che sono realmente. Se lo faccio male si vede, viene una porcata, ma se lo faccio bene è una cosa che risulta anche abbastanza realistica. Ecco, tutto questo è ormai vietato. Getty è stata molto pungente nel suo comunicato perché ha proprio detto che chiunque da questo momento in poi ci invierà immagini che sono state alterate digitalmente per modificare la fisicità delle persone ritratte si vedrà cancellato l'account. Quindi io non lo facevo neanche prima se non proprio delle cose molto blande, poi vabbè io faccio poche fotografie di persone, sono più sull'oggettistica, la paesaggistica e l'urbanistica come generi fotografici che mi piace portare. Ne facevo poche anche prima. Diciamo che per me non è stato un affronto. Non sono d'accordo in linea di principio perché secondo me se un artista imposta la sua fotografia sulla magrezza o sull'ipertrofia, ma non ha sotto mano i modelli giusti, io sono dell'idea che un artista dovrebbe poter usare la manipolazione anche su Photoshop per arrivare al risultato che voleva. È un'idea mia però e notate che ho usato la parola artista. Quindi un conto è l'arte, ma su Getty tu, sulle piattaforme di microstock in generale, tu non porti necessariamente arte, porti... è un lavoro. Quindi molto spesso ha poco di artistico. Cioè quando io fotografo una forchetta, cioè non è arte, è oggettistica, è still life, è una scienza esatta, con delle proporzioni, delle regole. Quindi non è arte e quindi io sono per la massima libertà di espressione sempre, in qualsiasi contesto e sotto qualsiasi punto di vista. Però diciamo che nel momento in cui sto lavorando il fatto di mettere un freno e di dire certe cose non le accettiamo, lo capisco. Lo capisco perché è una tematica sentita, non da me. Io come già detto prima, io sono perfetto quindi non ho bisogno di ritoccarmi. Capisco che è una tematica sentita e quindi mettere un freno alle aziende, perché su Instagram non puoi controllare tutti quelli che postano le foto ritoccate da casa che cosa fanno. Però che lavorativamente ci sia un freno per cui si dica le aziende, quantomeno le aziende che comprano da Ghetti, non potranno più avere accesso a immagini con fisicità palesemente finte e ritoccate, è una cosa che può essere apprezzabile. Allo stesso modo, anzi a maggior ragione ancora di più, sono abbastanza contento di questa decisione che è stata presa di non accettare, non accettare più, ma anche retroattiva perché verranno rimosse anche quelle già caricate, non accettare immagini generate dall'intelligenza artificiale. Questa è una cosa buona perché tenete conto che se avessimo avuto un'invasione di immagini generate dall'intelligenza artificiale, con l'intelligenza artificiale che continua a progredire, machine learning, cose che diventano sempre più evolute, ci saremmo trovati a un certo punto a dover dire ok, io fotografo, che ho passato una vita a formarmi, a imparare dai miei errori, a comprare macchine fotografiche sempre più fighe, adesso mi trovo a dover dire le mie foto non vendono più perché è sufficiente che uno digiti, che ne so, un bosco di notte, cioè io digito bosco di notte e l'intelligenza artificiale mi genera un'immagine di un bosco durante la notte così figo che io non riuscirò mai a fotografarne uno altrettanto bello, anche perché non esiste, cioè è generato artificialmente, quindi è la scena perfetta è molto bello secondo me che ci sia questo paletto per cui questa cosa non vada a detrimento di quello che facciamo noi, content creator, che creiamo delle foto vere cercando di farla davvero la foto del bosco, questo ci mette al riparo dai rischi dell'intelligenza artificiale che genera immagini, assolutamente no purtroppo perché comunque teniamo conto che un'immagine su una piattaforma di microstock può costare anche 600 dollari, cioè una singola foto può costare anche 600 dollari le mie no, le mie probabilmente vengono vendute a molti di meno e poi sono dentro in degli abbonamenti, quindi le mie costano sicuramente di meno però ci sono dei player più grossi di me che magari vendono le loro foto a 600 dollari l'una, quindi è un bel gruzzoletto ogni singolo download ecco, ovviamente nel momento in cui arriva un'app che ci permette di generare un'immagine gratis è ovvio che come è stato per Pixabay, come è stato per Unsplash, che sono tutti siti che ci permettono di scaricare immagini completamente gratuite è evidente che anche questo eroderà un pochino i nostri margini di guadagno in maniera significativa, secondo me no perché chi usa queste piattaforme gratuite è semplicemente qualcuno che prima non poteva permettersi di comprare su Getty non potrà permetterselo neanche un domani e quindi prima non faceva niente e adesso usa Unsplash e usa Pixabay e magari userà una di queste app quelli che compravano su Getty prima continueranno a comprare su Getty proprio per evitare i rischi di cui ho parlato all'inizio del video rischi di copyright, rischi di gestori dell'app che si fanno vivi dicendo quell'immagine non è tua per evitare questa serie di problematiche, secondo me il New York Times continuerà a comprare una licenza estesa per le immagini su siti di stock e di microstock chi conta davvero, chi vuole fare una campagna, chi vuole fare un articolo di giornale serio, non una webzine chi vuole fare cose serie e importanti continuerà a comprare sui siti di microstock chi invece non ha mai comprato sui siti di microstock comincerà a usare queste app che generano immagini gratis con l'intelligenza artificiale il risultato sarà che sicuramente avremo una competizione ancora più agguerrita nel mondo delle immagini perché i content creator di foto e video dovranno comunque cominciare a creare delle immagini ancora più belle per convincere più clienti possibile che gli conviene andare a spendere qualche soldo per avere quelle belle scattate per davvero piuttosto che quelle finte generate col telefono non è una battaglia facile perché quello che è gratis ha sempre un appeal incredibile sui clienti, sui consumatori quindi tutto quello che viene regalato lo proviamo immediatamente io stesso le ho provate queste app, non le userò non proporrò ai miei clienti di fargli copertine di cd o cose del genere usando questa app anche se avrei potuto perché certe cose devo dire che rendono già abbastanza bene ma è proprio una cosa che ideologicamente non mi piace cioè a me piace consegnare una cosa dietro a cui c'è del lavoro non ho nessun interesse a fregare il mio cliente dandogli una cosa spacciandogliela come lavoro e avendola invece fatta fare a un calcolatore elettronico quindi è una cosa che non mi appartiene probabilmente sono vecchio, sono obsoleto, un dinosauro e prima o poi verrò sostituito da un cellulare che lavorerà meglio di me ma non è ancora arrivato quel giorno bene, questo era un video spot quindi ho cercato di non dilungarmi troppo fallendo miseramente perché sto guardando il display e comunque mi sono dilungato un bel po' voleva essere un video breve, non ci sono riuscito fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate fatemi sapere se c'è qualche aspetto che volete sentire approfondito magari mi costringerete ad andarmi a studiare qualcosa che non so o di cui non so abbastanza perché a volte mi fate delle richieste che dico porca miseria cosa gli rispondo a questo mettetemi tranquillamente in difficoltà e vedremo se riesco a rispondervi in un commento o se è necessario fare un video dedicato apposta sull'argomento detto questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao 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 ciao